La fede è una relazione tra la persona umana e la persona di Gesù, è lasciarsi attirare da Dio verso Gesù per ricevere da Lui la vita eterna. Così Papa Francesco, prima della preghiera dell'Angelus recitata in piazza San Pietro, ha spiegato le parole di Gesù riportate dal Vangelo di Giovanni inserito nella liturgia di oggi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Non basta incontrare Gesù per credere in Lui, ha aggiunto il Papa, non basta leggere la Bibbia e il Vangelo, non basta nemmeno assistere a un miracolo come chi ha visto la moltiplicazione dei pani. Molti infatti dubitano di Gesù quando afferma che il vero pane donato da Dio è Lui stesso. Dio attira tutti verso Gesù, ma chi ha il cuore chiuso all'azione dello Spirito di Dio non può ricevere il dono, il regalo della fede. La fede, che è come un seme nel profondo del cuore, sboccia quando ci lasciamo attrarre dal Padre verso Gesù. E andiamo a Lui, con animo aperto, col cuore aperto, senza pregiudizi. Allora riconosciamo nel suo volto il volto di Dio e nelle sue parole la parola di Dio, perché perché lo Spirito Santo ci ha fatto entrare nella relazione di amore e di vita che c'è tra Gesù e Dio Padre. Il dono della fede, ha concluso Papa Francesco, non è privato, ma da condividere per la vita del mondo.